Penso che questa è la casa di speranza, che apre di nuovo per tutti voi le porte del mondo, bisogna dire così, perché uscendo da qui si incomincia di nuovo a vivere, quindi grazie a Don Ben, alla Caritas, al Vicario per la città di Roma, vi ho portato, oltre alla benvenzione del Santo Padre, anche una coroncina di rosario, proprio da lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei in i cieli. La giornata di oggi è una giornata emozionante, credo che sia piena di amore e di speranza, come ha detto Su Eminenza. Non esistono persone che possono sparire dal radar della società, anche se hanno sbagliato, sono persone che esistono, e siccome davanti al Padre Eterno tutti esistono come figli, io direi che dobbiamo riscoprire questa dimensione di essere tutti figli e fratelli.